Preferiti mese di luglio, un video che mi hai richiesto e che oggi sono felicissima di condividere insieme a te. Quindi, let's get started! Ciao a tutti e bentornati su questo canale YouTube. Ciao Valentina, canale dove parliamo di eco-minimalismo. Dunque, nel video di oggi voglio mostrarti alcuni produttini che ho provato in questi ultimi mesi, che mi sono piaciuti davvero tanto e oggi te ne voglio parlare. Già lo sai, ogni volta che qualcosa di nuovo esce in commercio c'è sempre il desiderio di uscire e di acquistarlo e molto spesso acquistiamo anche tutte quelle cose cosine cosucce che in realtà non ci servono o non fanno proprio per noi e poi vengono abbandonate lì in un cassetto, in una mensola. Ed è un vero peccato, perché comunque si tratta dei nostri soldi che spendiamo e in qualche modo buttiamo nel WC. Quindi, con il video di oggi spero davvero di poterti aiutare a indirizzarti nell'acquisto di quei prodotti che davvero ti servono, tenendo ovviamente presente le tue esigenze e spero che la descrizione e la mia opinione ti possa aiutare a fare l'acquisto giusto, quell'acquisto che poi non viene abbandonato in un cassetto. Quindi direi di partire subito con il primissimo prodotto che mi ha entusiasmato tantissimo, che ho deciso di provare anche con un po' di timore e sto parlando del soffione doccia. Ho deciso di acquistare questa nuova testa per la doccia, se non sbaglio si chiama soffione doccia, perché come ti accennavo in questo video qui, in questi ultimi anni ho realizzato, mi sono resa conto che i miei capelli erano molto spenti, sfibrati e soprattutto avevo iniziato a perderne parecchi e ho sempre pensato che uno dei motivi principali di questa mia caduta dei capelli derivava appunto dall'acqua, un'acqua troppo pesante, piena di calcare a mio avviso. Dovevo comunque cambiare la testina della doccia perché comunque quella che avevo si era rovinata dopo tanti anni che la usavo e così ho deciso di buttarmi in questo nuovo acquisto e devo dire che a distanza di due mesi mi trovo proprio bene e i primi risultati diciamo così ho iniziato a vederli non solo sui capelli ma anche sulla pelle. Sento la pelle molto più diciamo liscia, meno ruvida e al momento posso dire che questo prodotto davvero mi soddisfa. Infatti questo soffione grazie alla presenza delle palline di ioni minerali riduce a mio avviso significativamente l'impurità dell'acqua, il cloro e i batteri che sono le principali fonti per capelli danneggiati e pelle secca. Mi piace inoltre questo tipo di soffione doccia perché ha tre regolazioni dello spruzzo a massaggio, a getto e a pioggia. Io preferisco a pioggia o a massaggio per farmi coccolare un po' il mio ragazzo preferisce quello a getto più deciso, più forte. Tra le tante testine per la doccia ho scelto questo perché permette di risparmiare il 30% di acqua quindi non solo ci aiuta a diminuire lo spreco e il consumo di acqua ma anche a vedere una spesa in meno nelle nostre bollette. Inoltre la pressione dell'acqua è aumentata e mi piace tantissimo il design trasparente che permette di vedere le palline di ioni minerali dentro. Quindi ecco un prodotto che ho provato, mi è piaciuto tantissimo, mi sta piacendo tantissimo, lo uso volentieri, ho iniziato a vedere i primi risultati, ti terrò aggiornato sulle varie novità ma al momento posso davvero dire che questo è un prodotto top. Altro prodotto che uso da un anno quasi, che ho utilizzato tantissimo, che mi piace, che adoro e per questo motivo ho deciso di nominarlo anche tra i preferiti del mese di luglio è questo, ovvero l'assorbente lavabile e riutilizzabile e le mutandine assorbenti. Ne ho già parlato più in dettaglio in questo video qui, te lo lascio anche qui sotto in descrizione e è un prodotto che io adoro, utilizzo grazie a Dio tutti i mesi e che consiglio tantissimo. Chi l'ho acquistato dopo aver guardato il mio video lo so perché mi avete scritto in tantissime e la cosa mi ha fatto strapiacere è stato perché non ce ne hai parlato prima, sono favolosi ed è vero sono super favolosi e chi li prova non torna indietro e chi li ha acquistati penso possa confermarlo anche qui sotto nei commenti. Io adoro questi assorbenti lavabili e riutilizzabili e le mutandine assorbenti non solo perché sono semplicemente favolosi ma anche perché mi hanno visto diminuire l'inquinamento da assorbenti di cui noi donne ne siamo responsabili. Infatti circa 2 miliardi di donne hanno a che fare mensilmente con le mestruazioni utilizzando così dagli 11.000 ai 16.000 tamponi o assorbenti nel corso della nostra esistenza. Assorbenti che impiegano circa 500 anni a disintegrarsi. Questo significa anche che i nipoti dei nostri nipoti avranno ancora a che fare, staranno ancora disintegrando gli assorbenti che noi abbiamo utilizzato e stiamo utilizzando. Quindi io penso che semplicemente questo pensiero debba farci rivalutare il modo in cui noi viviamo, in cui noi donne viviamo le nostre mestruazioni e penso sia arrivato il momento di viverle senza dubbio in maniera, in modo più responsabile. Questo tipo di assorbenti che io ho provato e che voi avete acquistato è piaciuto davvero a tante, per questo lo vado a riproporre e te lo metto in descrizione qui sotto nel caso tu sia interessata ad acquistarli. Li trovi tramite Amazon, gli acquisti tramite Amazon. Come terzo prodotto tra i preferiti del mese di luglio voglio far rientrare questi, i sacchettini riutilizzabili per alimenti. Questi sacchettini li ho acquistati in diverse dimensioni e ci posso contenere davvero di tutto, dai legumi alla salsa di pomodoro che conservo in frigo, carne e pesce che vanno in freezer perché questi sacchettini si possono anche congelare, sono davvero ottimi e grazie a questi sacchettini ho davvero visto una riduzione di quei sacchettini orribili di plastica usa e getta. Un prodotto che ho appunto scoperto qualche mese fa, ho provato e testato sia in frigo che in freezer appunto e lo trovo davvero ottimo. Questi si lavano facilmente con un po' di acqua tiepida e sapone, non si lavano in lavastoviglie a meno che non è menzionato sul vostro sacchettino di silicone riutilizzabile. Quindi mi raccomando controlla sempre il simboletto, questo sacchettino il mio non è lavabile lavastoviglie ma magari il tuo lo è, controlla sempre. Ad ogni modo un prodotto che amo, che ho utilizzato tantissimo, utilizzo tantissimo, lo consiglio, mi ha visto diminuire lo spreco come dicevo prima dei sacchettini, i classici sacchettini che tutti noi utilizziamo usa e getta e lo consiglio. Trovi il link di questi sacchettini qui sotto in descrizione. Quarto prodotto preferito del mese di luglio che mi rivolge alla tecnologia è il telefono di Swappi. Io utilizzo questo telefono già da ottobre dell'anno scorso ed è un telefono che io utilizzo per tutto per i video YouTube, le storie Instagram, Reals Instagram, Fox, ma qui dentro c'è di tutto, app, anzi ora che ci penso potrebbe anche essere arrivato il momento di fare un decluttering del telefono, anzi non del telefono, di quello che c'è dentro al telefono per meglio dire e ho scelto Swappi e consiglio Swappi perché questo è un telefono fatto sostenibilmente, ovvero Swappi utilizza per creare i suoi telefoni cellulari minerali rari già presenti nel mercato senza andare a prendere niente di nuovo dal nostro pianeta e da quelle miniere che si trovano in paesi con altre difficoltà socio-economiche e socio-politiche. Ed è per questo motivo che io mi sono affidata a Swappi perché non solo offre un servizio un prodotto davvero eccellente, ma lavora mantenendo un occhio rivolto verso la sostenibilità, rivolto a tutte quelle persone che ci stanno dietro alla realizzazione di un telefono, partendo appunto dai minatori che ogni giorno rischiano la loro vita per andare a recuperare quei minerali rari che servono per far funzionare il nostro telefono. Adoro Swappi, non c'è nessun motivo che mi faccia indietreggiare da una scelta di avere un telefono ricondizionato, anzi qualora un domani mi servisse un nuovo telefono sicuramente vado a rivolgermi nuovamente a Swappi perché credo nel loro prodotto, credo nel loro customer service, credo nel bene che fanno per l'ambiente. Swappi tra l'altro ha un sito internet davvero molto facile da navigare, con una descrizione molto precisa e dettagliata di ogni singolo telefono, ne descrive il modello, il grado, il prezzo, dà la possibilità anche di acquistare con un servizio chiamato ScalaPay che ti dà la possibilità di acquistare in tre comode semplici rate e hai anche la possibilità di vendere il tuo telefono a Swappi. Quindi davvero un'azienda eccellente che davvero fa tanto e dà tanto alla community. Ti lascio qui sotto in descrizione il link che ti riporta alla pagina di Swappi e troverai anche un codice sconto di 10 euro che puoi utilizzare al check out. Ribadisco dunque un telefono eccellente che uso sempre molto volentieri nella quotidianità e che non mi ha dato mai nessun tipo di problema. Un telefono che consiglio tantissimo e per questo motivo rientra tra i miei preferiti del mese di luglio. Passiamo ora alla categoria accessori e voglio nominare i gioielli di Anna Luisa. Ho deciso di nominarli proprio questo mese perché il mese di giugno è stato il compleanno di due mie grandissime amiche e ne ho approfittato per regalare loro i gioielli di Anna Luisa che tra l'altro sto indossando anch'io in questo momento. Ho questa catenina e degli orecchini davvero carinissimi. Infatti è un brand che adoro e che a mio avviso fa gioielli giovani e raffinati e allo stesso tempo minimal e soprattutto sostenibili. Infatti i gioielli sono fatti con materiali riciclati e sono carbon neutral. I gioielli di Anna Luisa li trovo freschi, giovani, grintosi ma allo stesso tempo eleganti e io ogni tanto mi diverto ad andare nel sito di Anna Luisa e semplicemente vedere le novità che buttano fuori e mi viene una voglia infinita di acquistare che non ho mai fatto perché mi chiedo sempre mi serve o non mi serve prima di acquistare una cosa. Però devo dire la verità sono davvero molto belli. Gli ho regalati appunto alle mie due amiche che hanno fatto il loro compleanno a giugno e entrambe li hanno amati, li hanno graditi ed è un modo anche per far conoscere alle nostre amiche un brand sostenibile che se non viene fatto conoscere in questo modo è difficile credo scoprirlo. Quindi è sicuramente un brand che mi entusiasma che indosso volentieri anche perché come mi vedi nei miei video così sono nella vita di tutti i giorni, molto semplice, molto minimal, raramente indosso cose, non indosso neanche l'anello di fidanzamento che mi ha regalato il mio ragazzo. Questa è una vergogna ma giusto per rendere l'idea di quanto semplice sono con l'accessorio, non vado mai ad esagerare. Soprattutto alla mattina quando esco di casa e sono di corsa, chi ci pensa al gioiello? Cioè io ammiro tutte quelle donne e quelle ragazze che si ricordano di mettere l'accessorio, l'orecchino, la collanina. Io mi dimentico, io proprio esco così acqua e sapone. E appunto mi piace perché comunque è una cosa molto semplice, non è nulla di troppo esagerato. Un prodotto che sicuramente è valido, mi piace, fatto bene, fatto con cura, rispettando l'ambiente. Dopo che ho visto l'entusiasmo delle mie amiche quando gli ho regalato appunto i gioielli di Anna Luisa, ho pensato di condividere insieme a te questo brand sostenibile che fa gioielli. Ti lascio anche in questo caso il link di Anna Luisa qui sotto in descrizione. E se non sbaglio in questo momento ci sono degli sconti che si stanno verificando, quindi approfitta e dacci un'occhiata, ma come dico sempre acquista solo se ti serve o come nel mio caso se devi fare un regalo a qualcuno di speciale. E come sesto e ultimo prodotto che rientra tra i miei preferiti del mese di luglio voglio nominarti la mia bottiglia riutilizzabile che ho già nominato in passato, ma considerato che adesso sono iniziate le belle stagioni, si esce più spesso, le camminate sono più lunghe e insomma io ho sempre con me la mia bottiglia di acqua riutilizzabile. Ci sono tantissimi brand nel mercato che fanno bottiglie di acqua riutilizzabile e io in particolar modo ho scelto questa, la bottiglia Brew. E ho scelto questa perché tra le tante in commercio questa è l'unica che è stata fatta rispettando il nostro ambiente. Infatti questa bottiglia è realizzata da un 85% di acciaio inossidabile e il 50% di questa è materiale riciclato. Questo significa estrarre meno materiale vergine riducendo così l'uso di acqua, di carburante e proteggendo gli ambienti locali da un ulteriore degrado. Essendo questa bottiglia in acciaio inossidabile non rilascia sostanze chimiche e non reagisce con i liquidi che consumi. È inoltre facilissima da lavare e conservare e ha un tappo ermetico davvero eccellente e per questo motivo la nomino tra i preferiti del mese di luglio. Bene dunque questi sono i miei prodotti preferiti per questo mese di luglio, prodotti che ho avuto modo di provare e testare in questi ultimi mesi e per questo motivo te li consiglio con sicurezza, con gioia e con positività. Perché sono prodotti che io uso, utilizzo, li ho scelti per un motivo ben preciso e la missione con la quale sono stati creati è davvero valida. Sono invece curiosa di sapere quale tra tutti i prodotti nominati oggi rientra tra i tuoi preferiti e quali invece sono i tuoi prodotti preferiti per quest'estate 2021. Io spero davvero che questo video ti sia piaciuto, se sì fammelo sapere con un like e se non l'hai ancora fatto ti invito ad iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche. Noi come sempre ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video e nel frattempo buon weekend a tutti, un bacio, ciao!